Allora, oggi presenteremo, cioè presenterò, una squadra Adrenalin dell'album 2018-2019. Allora, questa squadra è il Milan. Allora, andiamo al Milan. Siamo vicini. Ecco. Allora. Gianluigi Donnarumma. Davide Calabria. Riccardo Rodríguez. Poi, Cristian Zapata. Lucas Biglia. Suso. Suso. Andre Silva. Patrick. Cutrone. Suso. E Calanoglou. Coppia. Imbattibile. Allora, ci vedremo al prossimo video di Tommy. Ciao.